Allora, proprio pochi minuti fa, neanche cinque, è stato rimosso il secondo cadavere dall'appartamento che si trova qui al primo piano. Dietro queste finestre che sormontano l'albero, che vedete, le finestre che sono chiuse, il secondo corpo che è stato appunto rimosso dalla polizia mortuaria. Entrambe le vittime non avevano documenti, pertanto di loro non conoscono il nome, non sappiamo quindi l'identità, ma neanche l'età. Qualcuno ci dice tra i 30 e i 40 anni. Allora Sara, è appena arrivato il tuo contributo, naturalmente lo mandiamo in onda, non l'abbiamo neanche revisionato, ma tutto sta avvenendo in tempo reale. Queste sono le voci, il racconto che la nostra inviata ha realizzato davvero pochi istanti fa è appena arrivato, sono i vicini di casa, come immaginate c'è grande allarme, grande stupore perché è una zona molto tranquilla, quella dalla quale noi anche trasmettiamo, una zona residenziale, una zona piena di esercizi commerciali e piena di persone fino a tarda sera. Questo è il racconto della nostra inviata, le voci, le testimonianze dei vicini di casa, tre omicidi in due ore nell'arco di un chilometro. Guardate. Oggi è stata una giornata un po' particolare. Verso le 10 c'è stata una cacciata, hanno chiuso le strade, pulizia, l'ambulanza, fino a che non si è saputo che hanno ammazzato due cinisi, però non abbiamo né visto né sentito niente. Quartieri da Citurno, gente tranquilla di passaggio, soprattutto avvocati, gente normale, persone anziane. I centri massaggi che ci sono qui nei dintorni, queste attività qui ci sono? Sì, ci sono, certo, come in tutti i quartieri, ormai. Voglio chiedere, le conosci le persone che sono morte qui a un isolato? Questa è tutta zona di prostituzione. Tutta zona di prostituzione? Certo. Piazzale Clodio, Piazzale degli Eroi, Via Cipro, Via Angelo Emo, Via della Giuliana, sono delle zone. Qua tutto annunci, legge, donna cerca uomo, troverà Piazzale Clodio, Via della Giuliana, Via Angelo Emo, Via Cipro e Piazzale degli Eroi. Tutto. Questa è per le zone qua di qua. Qui c'ho clienti, magari sono venuti, però a cinese è difficile che vengano. Mi dispiace per queste ragazze, dicono che erano giovani. Brutta morte. Beh, devo dire che evidentemente esiste un mondo parallelo di cui noi non ci rendiamo conto, perché francamente insomma non mi pare una fotografia molto attività reale, almeno per quella che è la nostra esperienza. Però il dato oggettivo ci dice che insomma tutte e tre le vittime appartengono a quel mondo e praticavano nei luoghi in cui purtroppo hanno trovato la morte, quindi vicino a noi. Roberta, questo serial killer potrebbe colpire ancora, secondo te? Se è effettivamente la stessa mano che ha agito, è chiaro che è un soggetto che impreda a un'escalation importante, diciamo tecnicamente è più uno spree killer, perché non c'è una distanza temporale significativa tra i vari delitti. Quindi è un soggetto che sta vivendo probabilmente una crisi di natura psicopatologica, quindi certamente è verosimilmente un soggetto in condizioni molto molto critiche a livello comportamentale, se è lo stesso soggetto. Se si tratta invece di una concomitanza temporale, di due accadimenti separati, però sono state uccise con il coltello, è un'arma molto gettonata, purtroppo con questo tipo di omicidi. Quindi diciamo che l'ipotesi che possa essere la stessa mano è realistica, ma non è l'unica. Allora Sara Roberta, tu ci hai detto prima che si stanno vagliando chiaramente le telecamere di videosorveglianza e di sicurezza della zona. Se abbiamo informazioni, naturalmente siamo ancora in onda per un'ora, speriamo davvero che il responsabile di questo triplice omicidio, di questa scia di sangue, nell'arco di un chilometro, possa essere presto fermato.